Questo Papa sarà l'ultimo. Questo scrivevano sul web quattro cittadini kossovari finiti in manette nel corso di un'operazione antiterrorismo condotta dalla polizia di Brescia. Il blitz in collaborazione con l'autorità di Pristina è scattato contemporaneamente tra Brescia, Savona e Vicenza. L'indagine condotta dagli uomini della direzione centrale della polizia di prevenzione e da quelli della Digos di Brescia ha ricostruito contatti e organigramma di una presunta organizzazione terroristica che anche attraverso l'uso della rete e dei social network propagandava l'ideologia judaista. I quattro sono ritenuti responsabili dei reati di apologia del terrorismo e instigazione all'odio razziale. Due fermati saranno espulsi, un terzo è stato sottoposto a sorveglianza speciale per terrorismo e il quarto, la mente della cellula, è stato arrestato in Kosovo. Nelle perquisizioni in Kosovo sono state sequestrate due armi da fuoco, una pistola calibro 7 di fabbricazione slava e una carabina russa. Non risultano per adesso riscontri materiali di armi in possesso dei sospettati in Italia, ma gli inquirenti stanno aspettando gli esiti degli approfondimenti dell'antiterrorismo in Kosovo.